E' Martina imparato con il tempo di 51 secondi a salire sul gradino più alto del podio finale che ha chiuso stamane al centro di riabilitazione Equestre, nonno Emilio di Ponte Cagnano, la dodicesima edizione del Memorial Emilio di Cerbo. Al secondo posto Francesco Russo con un minuto e quattro secondi, mentre con il tempo di dieci secondi in più si piazza al terzo posto Antonio Memoli. Medaglie e pergamene però per tutti gli atleti che hanno partecipato all'iniziativa, una vera e propria giornata di festa, un importante momento di socializzazione e di integrazione sociale, come ha ribadito il direttore generale dei centri Rete e Solidale Carmen Guarino, di cui il centro nonno Emilio fa parte. Stamattina qui i bambini hanno partecipato a questa kermesse bellissima, quindi hanno fatto la loro garetta, hanno anche fatto vedere ai loro genitori quello che hanno imparato. Per noi è importante, soprattutto perché ricordiamo Emilio di Cerbo, a cui è intitolata questa struttura, ma soprattutto perché diffondiamo la pratica del cavallo, che è una pratica splendida, straordinaria. L'esperienza che i bambini fanno, soprattutto quelli che vengono da situazioni di disagio fisici, psichici, ambientali, familiari, prendersi cura del cavallo, saper salire a cavallo, saper andare a cavallo, sono anche delle abilità, delle performance che i bambini acquisiscono. Ed è poi il rapporto con la natura, un rapporto meraviglioso ovviamente, la capacità di governanza dell'animale che aiuta e sostiene la crescita della personalità dell'individuo. Quindi noi speriamo che questa pratica si diffonda e speriamo pure che in un prossimo futuro venga anche riconosciuta la riabilitazione equestre come pratica da fare. Fare uscire i bambini dalle stanze chiuse e fare attività psicomotricità fuori, all'aperto, attraverso il cavallo. Ovviamente con personale esperto, con gli ipoterapisti, con i terapisti della riabilitazione, con gli educatori sarebbe veramente auspicabile. Le cose cambiano, da pochi giorni abbiamo vissuto l'esperienza della riforma del terzo settore, quindi riconoscimento, chissà magari domani avremo il riconoscimento del patrimonio sociale della nostra nazione perché magari ci sarà parallelamente all'agenzia del demanio dello Stato, l'agenzia del patrimonio sociale, quindi le cose cambiano, c'è un'evoluzione ma noi soggetti del terzo settore, cittadini impegnati, dobbiamo spingere e accompagnare questa trasformazione sociale attraverso l'innovazione perché credo che sia la cosa più importante.